Iniziamo i nostri lavori, siamo all'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze per Carlo Padoan ai sensi dell'articolo 18,3 della legge 243 del 2012 in ordine alla nota di aggiornamento del documento di Economia e Finanza 2016. Sull'ordine dei lavori avverto che il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, il Professor Pisauro, poco fa ha trasmesso alla Presidente della Camera e al Presidente del Senato la nota di cui do lettura. Onorevole Presidente, desidero informarla che l'UPB ha espresso la propria valutazione del quadro macroeconomico programmatico della Nadef 2016 nell'audizione del 3 ottobre ultimo scorso. Vi è quindi una divergenza di opinioni con il Governo. Rammento tuttavia che il principio del comply or explain, sotteso dall'articolo 18,3 della legge 243 del 2012, non obbliga il Governo ad adeguarsi ma richiede che esso illustri i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni, ovvero ritiene di confermarle a quelle dell'Ufficio. Resta comunque aperto il processo finalizzato alla validazione, se diverse, delle previsioni macroeconomiche che verranno presentate nel documento programmatico di bilancio come previsto dall'ordinamento europeo. L'occasione è gradita per porgerle i più cordiali saluti. L'ordine del giorno reca pertanto l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze per Carlo Padoan, essenzia dell'articolo 18,3 della legge 243 del 2012. Ricordo che essenzia la città di disposizione, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 18 l'ufficio parlamentare di bilancio esprima valutazioni significative divergenti rispetto a quelle del Governo, su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Commissione parlamentare competenti in materia di finanza pubblica, quest'ultimo illustra i motivi per i quali ritiene di confermare le proprie valutazioni, ovvero, come dicevamo prima, ritiene di conformarle a quelle dell'ufficio. Do pertanto la parola al Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. Prego Ministro. Grazie Presidente, buonasera a tutti. È stata inviata in anticipo il testo della mia audizione che contiene anche alcune tabelle. Nell'audizione del 3 ottobre scorso l'ufficio parlamentare di bilancio ha ritenuto di non validare la previsione di crescita programmatica per il 2017 contenuta nella nota di aggiornamento del DEF. La valutazione da parte dell'UPB è ovviamente un aspetto importante del processo di approvazione parlamentare della nota di aggiornamento e lo stesso Governo ha beneficiato dell'interlocuzione con l'UPB nel predisporre le previsioni. Ricordo che la legge 243 del 2012, articolo 18,3, prevede, come è stato appena ricordato, è che in caso di mancata validazione il Governo illustra i motivi per cui ritiene di confermare le proprie valutazioni, ovvero di conformarle a quelle dell'ufficio. Rilevo inoltre che la legge 163 del 4 agosto 2016 richiede al Governo di indicare nella nota di aggiornamento i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica. Alle informazioni già presenti nella nota di aggiornamento 2016, che indica ambiti di intervento e relativi impatti della manovra 17-19, in questa audizione aggiungerò ulteriori dettagli su misure, ambiti di intervento e impatti sul PIL ipotizzati nel redigere la nota di aggiornamento. L'UPB sostiene che la previsione programmatica del Governo è fuori linea rispetto alle stime del Panel dei Previsori, essendo superiore di 0,3 punti percentuali rispetto al valore mediano di tali previsioni. Faccio rilevare che essendo la stima tendenziale del Governo di 0,1 punti più elevata di quella del Panel UPB, la differenza in termini di scarto fra scenario programmatico e tendenziale fra Governo e Panel UPB è in realtà di 0,2 punti percentuali. Consentite di mi attirare l'attenzione sull'ampiezza degli scarti di cui parliamo, tra una valutazione e l'altra. Si tratta di uno scarto contenuto che a noi sembra non significativo anche in termini statistici, alla luce di diverse considerazioni. Partirei dalla più recente stima del Fondo Monetario Internazionale, il quale attribuisce all'Italia è una crescita dello 0,9% nel 2017, peraltro senza disporre di elementi sulla manovra ipotizzata dal Governo. Si tratta di uno scarto di un decimo di punto percentuale con le nostre previsioni. Lo scarto tra la stima del Governo e quella del Panel Previsori UPB è appena più ampia, due decimi di punto percentuale, meno della metà della revisione del PIL reale 2014 pubblicata dall'Istat il 23 settembre. In quell'occasione, lo ricordo, l'Istat ha rivisto la valutazione iniziale di un calo del prodotto, stimata un anno fa al meno 0,4% e ha invece registrato una crescita pari a più 0,1%. Peraltro nello stesso Panel di Previsori UPB ci sono divergenze per il 2017 di 0,2 punti percentuali. Osservo inoltre che le stime del Governo relativi all'impatto della manovra nel triennio 2017-19 coincidono con quelle dell'UPB. Per entrambi l'impatto ammonta a 0,4 punti di PIL. La differenza tra la valutazione del Governo e la valutazione dell'UPB verte principalmente sui tempi del dispiegarsi degli effetti della manovra. In particolare per l'UPB gli effetti sono minori di 0,2 punti nel 2017 compensati da un maggior impatto nel biennio successivo. In sintesi stiamo parlando di una differenza ridotta che pare riconducibile a singole peculiarità modellistiche, timing delle equazioni, modalità di introduzione delle politiche nei modelli e margini d'errore statistico. Vengo ora all'impatto delle misure di stimolo sul PIL programmatico 2017 e passo a illustrare come si è pervenuti alla valutazione dell'impatto complessivo della manovra in linea con quanto previsto dall'articolo 1,7b della legge 163-2016 concernente il contenuto della legge di bilancio. Per ciascun ambito di intervento indicherò l'entità dell'impatto sulla crescita. La stima dei tassi di crescita è basata sull'ipotesi di un indebitamento netto pari al 2% del PIL nel 2017, all'1.2% nel 2018 e allo 0,2% nel 2019. I tassi di crescita del PIL reale associati a questi livelli di indebitamento, così come indicati nella nota di aggiornamento al DEF, sono i seguenti. 1,0% nel 2017, 1,3% nel 2018 e 1,2% nel 2019. La composizione della manovra e quindi alcuni suoi effetti sono ancora passibili di variazione in quanto il disegno di legge di bilancio deve essere ancora discusso e approvato dal Consiglio dei Ministri. Una volta che il Governo avrà licenziato il disegno di legge, verrà trasmesso alle autorità economiche europee e al Parlamento il documento programmatico di bilancio. Vengo adesso alla valutazione delle singole misure di stimolo alla crescita e all'impatto sul PIL. Rimozione dell'aumento dell'IVA previsto per il gennaio 2017 che comporta un aumento di più 0,3 punti percentuali. Questa valutazione è suffragata da simulazioni econometriche che forniscono un moltiplicatore lievemente superiore a quello riportato nel DEF 2016 a ragione di miglioramenti alle stime del modello, revisioni alle serie storiche e nuove osservazioni. Questo effetto chiaramente deve essere scorporato dal tendenziale che includeva un aumento delle imposte indirette e genererebbe un effetto restrittivo sui consumi. Su questa voce siamo stati prudenti considerando il contesto macroeconomico nel quale ci troviamo dall'inizio della crisi. Inoltre è ragionevole sostenere che la stima di tal effetto sia prudente anche alla luce dell'esperienza del passato e della fondata ipotesi che le aspettative in qualche modo scontino la non attuazione dell'aumento IVA. Si pensi che una simulazione contrafattuale con il modello Oxford Economics darebbe un impatto sul PIL nel 2017 di 0,5, maggiore della nostra stima di 0,3. Pacchetto competitività che ha un impatto positivo di 0,1 punti. Questo pacchetto di misure punta a stimolare gli investimenti privati in macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, beni immateriali ed in particolare ricerca e sviluppo. Il pacchetto comprende superammortamenti relativi agli investimenti effettuati nel 2017, a patto che i relativi beni siano consegnati entro il 30 giugno 2018. Si introduce anche un iperammortamento per investimenti in industria .4. Si rafforzano i crediti di imposta su investimenti in ricerca e sviluppo e nell'ambito delle iniziative che vanno sotto la definizione di finanza per la crescita si introducono i piani di risparmio individuali con effetti che si ampliano lungo il periodo 17-19. Pacchetto sviluppo che ha un impatto positivo di 0,2 punti. Si tratta di maggiori investimenti in opere pubbliche e messe in sicurezza di infrastrutture scolastiche e viarie in chiave antisismica. Inoltre si rifinanzia il Fondo Centrale di Garanzia e la Sabatini. Si prevede inoltre la proroga dell'intero pacchetto di incentivi fiscali al risparmio energetico, alle ristrutturazioni e all'acquisto di mobili, fortemente potenziato per gli interventi per la sicurezza sismica. Pacchetto relativo alle politiche sociali, contratti pubblici, capitale umano, politiche vigenti. L'impatto complessivo positivo di 0,1 punti. L'impatto è arrotondato per difetto, essendo pari a 0,05 punti per le politiche sociali e 0,09 per quelle vigenti, le spese indifferibili. Nelle spese sociali sono comprese l'adeguamento delle pensioni minime e risorse per le famiglie, il capitale umano e i rinnovi contrattuali nel settore pubblico. Vengo ora all'impatto delle coperture. Primo, riduzione di spesa che hanno un impatto negativo sul PIL di 0,2 punti. Si prevedono un'ulteriore spending review e una revisione al ribasso di alcune voci di spesa e di fondi di dotazione. maggiori entrate che hanno un impatto negativo di 0,1 punti. È previsto un maggior gettito sulla base di meccanismi di emersione delle basi imponibili e di recupero dell'evasione IVA. Vengono variati i parametri dell'ACE e dei meccanismi di alcune altre imposte. Si prevedono inoltre entrate da concessioni governative e altre entrate con bassi moltiplicatori sull'attività economica. Altre coperture indicate nella tabella 3 del testo che vi è stato distribuito comprendono tagli e fondi di dotazione già inclusi nell'indebitamento tendenziale, ulteriori misure di riduzione della spesa e un aumento delle entrate ipotizzate equivalenti fra loro in termini di entità, nonché l'effetto retroattivo della maggiore crescita del PIL programmatico rispetto al tendenziale, su cui abbiamo tuttavia fatto valutazioni altamente produttive. credenziali. La valutazione complessiva, il saldo di tutti gli impatti descritti è di 0,4 punti percentuali di aumento del PIL. Partendo da un 0,6% di crescita del quadro tendenziale si perviene ad una crescita del PIL reale, pare all'1,0% del 2017. Come evidenziato nella tavola della relazione, l'impatto negativo delle riduzioni di imposte e degli aumenti di entrate sul PIL cresce negli anni successivi, in funzione di obiettivi di indebitamento netto più ambiziosi. La tabella 3 del testo contiene informazioni di maggior dettaglio sulla composizione della manovra 17-19 ipotizzata nella nota di aggiornamento, suddivisa per ambiti di intervento, composizione che potrebbe subire delle modifiche al margine in sede di definizione della legge di bilancio. Infine, la previsione 2016-17 alla luce degli ultimi dati. Credo sia utile rilevare che dalla pubblicazione della nota di aggiornamento ad oggi sono divenuti disponibili dati trimestrali di contabilità nazionale basati sui dati annuali diffusi il 23 settembre, nonché i numeri della produzione industriale di agosto. I nuovi dati di contabilità trimestrale riducono la cosiddetta crescita acquisita per il 2016, alla luce dei dati per i primi due trimestri, da 0,7% a 0,6%. Il dato di produzione industriale di agosto, più 1,7% sul mese precedente, porta invece ad aumentare la stima di crescita del PIL reale per il terzo trimestre, prudenzialmente di un decimo di punto, anche ipotizzando che il balzo venga compensato da una equivalente variazione congiuntorale negativa in settembre. Ne consegue che riteniamo di confermare la previsione di crescita del PIL reale di 0,8% per quest'anno. Inoltre l'effetto di trascendimento sul 2017 aumenta lievemente, il che fornisce un ulteriore supporto alla previsione del Governo. Grazie. Grazie a lei Ministro Padoan. È aperto il dibattito. Chi si scrive? È stato convincente. Possiamo chiudere? Allora, il Presidente Brunetta. Va bene, le do la parola. Le do il Brunetta, prego. Ma, visto che l'ufficio parlamentare di bilancio conferma dalla nota, che pure la sua stringatezza burocratica letta dal Presidente Boccia, e che il Ministro Padoan conferma, penso non ci sia altro da dire, che il Governo proceda, che il Governo approvi e il documento andrà in sede europea senza l'approvazione dell'ufficio parlamentare di bilancio. Che dire ancora? Parlare dei moltiplicatori e dei moltiplicatori? Che senso ha? Parlare dei modelli? Che senso ha? Siamo dentro una procedura. La procedura sta prevedendo, così come abbiamo visto, una esplicita contrapposizione. Non direi, signor Ministro, che si tratta di decimali. Si tratta di componenti rilevanti di discostamento, che comportano ovviamente valutazioni conseguenti. Anche il fatto che non ci sia nessuno che, a parte il sottoscritto che voglia intervenire, la dice lunga, sullo stallo e sull'incomprensione tra Governo e Parlamento in questa fase. mi appiglierei, ma non lo fa neanche questo stringato documento, sul balzo di agosto, sapendo tutti che agosto ha poca significatività dal punto di vista statistico, in quanto è un mese vuoto di produzione e quindi di impatto. Non c'è nulla da dire, se non l'estrema preoccupazione che arrivi in Europa, come ho avuto modo di dire il 3 di ottobre, un documento senza validazione dell'ufficio parlamentare di bilancio. Questo è l'elemento più preoccupante. Io avevo chiesto in tutti i modi che il Governo smettesse una volta per tutte di fare propaganda, smettesse di nascondersi dietro banali astrazioni statistiche, banali, banali moltiplicatori e demoltiplicatori che si insegnano i primi anni di politica economica e che, come ben sappiamo, sono suscettibili di essere valutati nella loro dimensione in termini di contesto e di sentiero di deficit o di surplus. Così non è stato, la mia auspicio non è stato colto, muro contro muro, benissimo. Il Governo vada pure avanti. Il Parlamento ne prenderà atto, al di là delle votazioni che ci potranno essere, ma tanto questo Parlamento con le maggioranze illegittime e non userei le formulazioni del Presidente Napolitano con le maggioranze illegittime vota qualsiasi cosa, voterà anche questa nota di variazione al DEF. La mia è solo amarezza, preoccupazione, per una congiuntura che continua a peggiorare, altro che trascinamento moderatamente positivo rispetto al 2017. Lo vedremo nei prossimi mesi. Io non avrei voluto ad arrivare a questo punto, ma se questa è la volontà del Governo ne prendo atto. Grazie. Grazie, onorevole Brunetta. Sono iscritti per il momento a parlare la senatrice Lezzi, onorevole Fassina, onorevole Marcon, onorevole Cariello. La parola alla senatrice Lezzi, prego. Ministro, onestamente questa sua relazione è piuttosto imbarazzante. Sembra di leggere i giornali degli ultimi giorni, perché questa non è altro che l'elenco dei buoni propositi che il Governo sta cercando di offrire al Paese, però non ci sono le spiegazioni in realtà di come si arriva a questo 0,4 in più e come sarebbero veramente gli impatti. Guardi, io le dico che sono imbarazzanti perché sono convinta di una cosa, che è che il Governo sta cercando questa nuova finestra di flessibilità, probabilmente l'ultima che ci verrà concessa, dopo aver utilizzato tutto quello che c'era da utilizzare, semplicemente per fare la terza campagna elettorale. L'abbiamo fatta per le europee, per le amministrative, adesso si farà anche per il referendum costituzionale. Si sta cercando sempre di aprire quella finestra che servirà solo per il consenso elettorale, ma ci sarà debito improduttivo, cioè quel genere di debito che non saranno altro che nuove tasse. Io avrei specificato meglio il fatto che questo blocco delle clausole di salvaguardia è dovuto a voi stessi, perché le clausole di salvaguardia le avete messe voi e mi pare piuttosto curioso avere un impatto positivo per lo 0,3 soltanto per il fatto di bloccare se stessi, perché di questo si sta trattando. Magari se ci fosse una politica economica differente si potrebbero avere degli impatti diversi, probabilmente facendo gli investimenti che a questo Paese veramente servono. E noi sappiamo bene invece che proprio nella relazione che accompagnava la tabella degli investimenti, i soldi non ce ne sono. Un'altra cosa che comunque io vorrei chiederle è proprio da tecnico qual è. In realtà io ho sempre pensato che lei fosse anche un autorevole tecnico, ma mi pare piuttosto ormai piegato alle esigenze prettamente politiche invece di questo governo. Allora io le volevo fare questa domanda, perché insomma io ritengo che insieme a lei stia perdendo credibilità tutta l'Italia e questo per me è veramente mortificante, perché dire che non si stiano truccando i conti quando in realtà è così, perché poi quando è il caso di dirlo ai cittadini, quando si va a prevedere una crescita che non c'è, su quella crescita si costruiscono delle spese che poi in realtà non sono coperte. E se in tutte le tabelle noi vediamo che di fatto il debito pubblico non scende, se non negli anni sempre successivi, ma quella parte che scende, scende solo a carico delle amministrazioni locali, mai il governo centrale. Le amministrazioni centrali si tengono le mani libere proprio per il consenso elettorale e le amministrazioni locali probabilmente dovrebbero insomma un po' alzare la voce per gli impellenti tagli anche alla sanità che arriveranno a partire dal 1 gennaio 2017 che sono piuttosto severi, si parla di 3 miliardi e mezzo, come recitava purtroppo un comma della legge di stabilità dell'anno scorso. Allora le chiedevo, c'è il deflattore dei consumi? Io ho visto che tra il quadro tendenziale e il quadro programmatico passa da 1,7 a 0,9 per il 2017 perché c'è il disinnesco delle clausole di salvaguardia. Però poi quando io vado a vedere nel 2018 vedo che si passa da 1,7 a 1,9 quindi aumenta. Questo mi fa evincere che le clausole di salvaguardia quelle nel 2018 per 20 miliardi scatteranno tant'è che anche nella tabella la tabella 2, la tavola 3 dove c'è la rimodulazione imposte in diretta e quindi ci sarebbe questo impatto positivo dello 0,3 nel 2018 dello 0,1 quindi significa che non ci sarà il disinnesco totale perlomeno soltanto probabilmente in una piccolissima parte quindi non si sta facendo altro per l'ennesima volta di trasferire a chi verrà dopo di voi probabilmente perché questo è poco ma sicuro voi sapete di essere già con un piede a casa perché questo governo non potrà andare oltre il referendum costituzionale personalizzato sulla persona di Renzi non a causa delle opposizioni ma a causa sua stessa si alla fine trasformerà in un Renzi dentro Renzi fuori quindi io temo proprio che sia questo il lavoro che state facendo adesso consegnare a chi verrà dopo di voi un paese in macerie un paese in cui veramente non ha respiro non ha aria senza assolutamente utilizzare un po' di coraggio che è stato sempre millantato mediaticamente che in realtà di fatto non c'è stato per fare tutto quello di questo paese avrebbe bisogno grazie senatrice Lezzi la parola all'onorevole Fassina prego grazie presidente ringrazio anche il ministro per l'esposizione ovviamente non ritorno sulle valutazioni che abbiamo fatto settimana scorsa per quanto mi riguarda nonostante le informazioni aggiuntive che sono state fornite stasera in particolare mi riferisco alla tabella 3 mantengo quei rilievi credo che sia sul piano istituzionale rilevante il fatto che si proceda senza la validazione dell'ufficio parlamentare di bilancio mi sorprende che il presidente del consiglio che dall'inizio del suo mandato ha sbandierato i 0,2 di flessibilità conquistati a Bruxelles come grandi vittorie politiche e che quando il PIL del 2014 è passato a più 0,1 ha diciamo fatto partire le gran casse da Palazzo Ghigi ora i tratti con tanta disinvoltura i 0 virgola ma questo è un discorso che faremo in altra sede devo dire con franchezza che non capisco la dimensione dei moltiplicatori implicati nei numeri che sono nella tabella vedo effetti molto contenuti dell'aumento delle entrate aggiuntive sulle quali poi verrò vedo effetti molto rilevanti sugli investimenti con una spesa di 0,02 di PIL nel 2017 grazie ai superammortamenti e quant'altro si ottengono effetti di 0,15 sul PIL quindi un moltiplicatore di circa 8 ma ripeto non voglio soffermarmi su questo l'abbiamo già fatto non vengo in questa sede sull'impianto della manovra vorrei chiedere invece al Ministro e chiudo un chiarimento vorrei capire questi 6-7 miliardi di aumenti di entrate permanenti che sono indicati nella tabella che tipo di imposte si tratta e poi vorrei capire se è possibile i tagli di spesa su quali capitoli intervengono grazie Presidente novità non ce ne sono rispetto alle previsioni che sono state fatte agli obiettivi che sono stati inseriti nella nota di aggiornamento del DEF si dà per scontato anche dalle tabelle che oggi ha prodotto il Ministro che quella accordo sulla flessibilità lo si dà praticamente per scontato ci sono misure che sono già state verificate nel senso che alcune misure sugli investimenti gli incentivi alcuni incentivi sono già sono un rinnovo rispetto alle precedenti leggi di stabilità un rinnovo che e su queste non mi sembra ci sia stata una grossa produzione di indotto sia per le casse dello Stato sia per il prodotto interno loro dall'altra parte Ministro qualche domanda c'è ma non riguarda prettamente i numeri perché credo che al di là che lei venga qui e ci legga un paio di tabelle alcune domande rispetto all'atteggiamento che voi avete tenuto anche nei confronti della composizione del bilancio della legge di stabilità in questi ultimi anni ma anche nell'atteggiamento che avete tenuto col Parlamento credo che alcune risposte siano utili e debbano esserci mi riferisco nel secondo anno che praticamente ci dà come obiettivo del pareggio di bilancio i due anni successivi e tutti gli anni esposto a questo obiettivo allora vorremmo capire se c'è effettivamente da parte del governo l'obiettivo di arrivare lì o se invece questo obiettivo non c'è e si tenta solo ed esclusivamente di spostarlo alla prossima legislatura poi la domanda che le pongo ministro è che rispetto agli interventi che voi avete anticipato e che confermate rispetto alla scorsa legge di stabilità nella nuova legge bilancio la domanda che io le porrei è lei che paese si aspetta tra vent'anni perché io non trovo da parte vostra noi non troviamo da parte vostra nessun indirizzo di politica economica nessun obiettivo strutturale noi non sappiamo e non conosciamo qual è il paese che volete voi che volete costruire voi noi conosciamo semplicemente tentativi di rapporto con l'Unione Europea per avere un po' di flessibilità per fare la campagna referendaria e mi spiace ministro che a questo lei si presti per fare la campagna referendaria e per poi tutte le volte tentare di tappare un po' i buchi ma qua non c'è nessun piano di politica economica noi non conosciamo qual è il vostro reale obiettivo noi non conosciamo che paese vorreste voi dove volete arrivare e su queste cose magari dovremmo confrontarci non c'è un piano di investimenti non c'è niente di niente c'è solo un grosso distacco dall'economia reale ministro io la invito per quanto lei possa a girare nei singoli territori a verificare quello che c'è realmente sui nostri territori non è quello che scrivete voi la situazione è veramente difficile e peggiora di mese in mese l'invito che vi facciamo è questo però ad alcune domande ci aspettiamo anche delle risposte perché il confronto dovremmo averlo non solo dal punto di vista quotidiano non solo quotidianamente ma soprattutto rispetto all'investimento sul paese che voi volete fare noi non sappiamo dove voi volete arrivare l'ultimo invito che le faccio ministro è quello che se lei continua a ripetere che l'approvazione delle riforme costituzionali portano una stabilità economica ed una nuova crescita lei o lo scrive nelle tabelle o se no non è comprovato da nessuna parte non si presti a questo gioco perlomeno a livello di immagine e di professionalità quella se la tenga grazie la parola al senatore santini prego sì signor ministro io credo che le richieste che sono state manifestate la volta scorsa anche da parte nostra abbiano trovato nella nota che lei ha presentato qui una risposta a nostro avviso adeguata puntuale sul tema esattamente delle motivazioni con le quali si stimava questo 0,4% diciamo di effetto nelle politiche programmatiche e quindi io credo che questa sia anche la condizione poi naturalmente nelle valutazioni che verranno fatte dall'ufficio parlamentare di bilancio sul documento programmatico di bilancio vedremo nei prossimi giorni nelle prossime settimane però credo che questo permetta insomma di avere anche delle spiegazioni puntuali e precise mi pare che siano significative queste spiegazioni che lei ha dato lei giustamente ha concentrato la sua nota non tanto sull'esame delle misure queste le aveva già fatte ma sul calcolo degli effetti delle misure che vengono fatte mi pare che ci siano delle valutazioni significative sia precisando meglio l'impatto della rimozione delle aliquote dell'IVA che viene spiegato anche con valutazioni ulteriori insomma rispetto a quanto si poteva presumere la volta scorsa e soprattutto sia stato scomposto e valutato anche scomposto nella valutazione e valutato in maniera più adeguata l'impatto delle politiche relative alla competitività e allo sviluppo cioè sostanzialmente in diverse forme le politiche di investimento che verranno da un lato reiterate e quindi questo credo possa permettere di dire che l'effetto sarà probabilmente più alto dello scorso anno proprio perché sono misure che vengono ripetute che vengono rafforzate penso al superammortamento e all'iperammortamento e dall'altro vengono anche estese rafforzate penso ad esempio proprio per parlare di economia reale come l'ultimo intervento chiedeva quando si interviene in maniera forte sul fondo di garanzia perché sappiamo tutti che il tema degli investimenti soprattutto nelle realtà non solo delle grandi imprese ma anche delle piccole imprese è un tema reale sul quale è necessario un sostegno e un supporto e un supporto forte quindi così come mi pare si valuta correttamente il fatto che le politiche sociali che agiscono ovviamente sui versanti della tutela hanno anche però un impatto generando un incremento sicuramente delle disponibilità per esempio di reddito sia pure in misure ovviamente particolarmente adeguate alla realtà dei tempi possono avere un impatto quindi io credo che al di là delle valutazioni naturalmente che legittimamente vengono fatte da chi è intervenuto nei presenti interventi ci sia quella spiegazione che è stata da noi richiesta e questo permetta di poter diciamo affrontare anche una una fase che io trovo fisiologica cioè è giusto che l'ufficio parlamentare di bilancio faccia delle valutazioni per come ritiene e per la natura anche che attiene il suo compito così come è altrettanto necessario e giusto che il governo dia le sue spiegazioni e io credo che questo porterà poi nella valutazione più completa questa notte di aggiornamento vedremo appunto il documento parlamentare il documento programmatico di bilancio e vedremo poi la legge di bilancio vera e propria possa permettere una valutazione più adeguata anche per la rilevanza che la valutazione dell'UPB ha poi in sede europea e sappiamo tutti che avendo la possibilità e la necessità di richiedere clausole di flessibilità o elementi di flessibilità maggiore è molto importante che tutto questo regga poi anche sul piano europeo quindi credo che ci siano queste condizioni e credo che da questo punto di vista per quanto ci riguarda possiamo procedere per quanto riguarda la nota di aggiornamento del DEF grazie senatore Santini onorevole Palese grazie presidente se noi ci troviamo davanti c'è una conferma rispetto alle valutazioni che sono state fatte nella seduta precedente nell'audizione del presidente da parte del ministro e con il governo fermo sulle sue posizioni arricchita c'è un po' di dettaglio ma tutto da verificare anche questo arricchimento cioè che c'è stato di informazioni ma che non hanno consentito all'ufficio parlamentare di bilancio quello di esprimere che cosa la congruità rispetto alle previsioni del governo la congruità dei numeri cioè questo è una circostanza che si verifica per la prima volta è una circostanza a mio avviso cioè di una gravità cioè inaudita in riferimento anche diciamo ai trascorsici recenti recenti che ci sono stati nel contesto della finanza dello Stato della finanza pubblica del Paese in riferimento anche alle situazioni con l'Europa nel 2011 per uscire dalla procedura di deficit eccessivo tra le situazioni e le cose che furono concordate è il nuovo articolo 81 della Costituzione e anche c'è questo organo terzo che è l'interfaccia dell'Unione Europea quindi noi ci presentiamo come governo con una credibilità estremamente c'è compromessa c'è il governo c'è che non riesce a trovare una proposta credibile per poter farsi validare lo strumento più importante istituzionalmente c'è più importante rispetto alla situazione della predisposizione poi del bilancio c'è dello Stato e c'è questo c'è un problema serio è un problema che riguarda anche i mercati ed è un problema che non può essere così semplificato come diciamo l'esponente della maggioranza cioè facendo la difesa c'è d'ufficio il difensore civico di quello che c'è sta che la proposta c'è del governo dice che sono ampiamente superati rispetto a quanto ha confutato in termini di congruità l'ufficio parlamentare di bilancio io penso insomma che è un grave errore c'è proprio un errore c'è di impostazione nessuno immagina le conseguenze prevedibili ma tutte negative in riferimento a questo perché siamo ormai abituati a vezzi a tutti sono anni che i vari governi in questo paese tirano fuori una serie di situazioni di crescita c'è sovrastimata entrate sovrastimate e poi si va sulla situazione delle correzioni e quant'altro non abbiamo nessuna notizia precisa ministro vengo alle domande sul problema della flessibilità da parte dell'Unione Europea la trattativa è iniziata è in corso è conclusa che prospettive ci sono la deroga in riferimento alla flessibilità sul terremoto è una tantum è una deroga piena è una deroga c'è ripetibile ha un limite e anche sulla situazione dell'immigrazione anche qui abbiamo c'è pienezza c'è contezza e anche l'anno scorso noi abbiamo avuto diciamo la flessibilità su tre punti se non erro sulle riforme cioè sulla crescita sulla stimolazione della crescita e sull'immigrazione rispetto alla crescita questo è un dato che la flessibilità se non erro fu di 4 miliardi di euro li abbiamo spesi cioè li abbiamo spesi oppure noi ci presentiamo di nuovo chiedendo flessibilità sull'investimento crescita e quant'altro senza aver speso 4 miliardi di euro concessi già nell'esercizio in corso questo diciamo è un problema di carattere generale cioè non mi soffermo né ripeto le cose cioè che già hanno così espresso i miei colleghi prima in termini di perplessità rispetto alla veridicità dei numeri e delle previsioni di quanto proposto grazie grazie a lei onorevole Valese onorevole Marcon prego grazie presidente ringrazio il ministro per la sua esposizione per le informazioni che ci ha voluto portare il nostro giudizio è un giudizio negativo per alcuni motivi il primo lo ricordava anche l'onorevole Fassina non si può valutare in modo direi burocratico quindi sottovalutare la divergenza che si è costituita che si è creata con l'ufficio parlamentare di bilancio ritorniamo questo un fatto dal punto di vista istituzionale molto grave che va rimarcato si tratta come so dire di uno strappo che noi giudichiamo negativamente perché come anche ricordava l'onorevole Valese nella dar vita all'ufficio parlamentare di bilancio si rispondeva un'esigenza che è quella di avere uno strumento indipendente per valutare oggettivamente i conti le stime che il governo sottopone al Parlamento e ci sembra diciamo che non tener conto delle osservazioni dell'ufficio parlamentare di bilancio rispetto alla non validazione dei dati per il 2017 sia un fatto politicamente molto grave evidenzio come il ministro si compiaccia almeno in modo relativo delle stime del Fondo Monetario Internazionale attribuendo uno scarto dello 0,1 rispetto alle previsioni del nostro governo inviterei il ministro a tener conto sempre però delle stime del Fondo Monetario Internazionale perché gran parte delle volte sono stime diciamo che vanno in controtendenza con quelle che il governo formula ricordo solamente che per il DEF della primavera scorsa il governo prevedeva una stima una crescita del PIL all'1,4 il Fondo Monetario invece è fatto una previsione diversa era l'1,1 quindi magari ecco la prossima volta teniamo conto delle stime del Fondo Monetario Internazionale anche diciamo quando non sono come posso dire in linea con quelle che il governo fa nei suoi documenti ufficiali vengo a tre domande la prima relativa alla tabella 3 che ovviamente è quella che ci interessa di più per valutare anche le stime le previsioni che il governo fa alle nuove politiche pensioni minime contratti pubblici capitale umano si stima per il 2017 una spesa un'uscita di 3 miliardi e 150 milioni voglio sapere quant'è di questa cifra quella che sarà impegnata per i contratti pubblici per i lavoratori del pubblico impiego seconda domanda ne faccio solo due perché una in realtà già era fatta l'onorevole Fassina implicitamente era diciamo una curiosità sapere con quale moltiplicatore è stato calcolato l'effetto sul PIL degli investimenti sulla competitività che ricordava dallo 0,2 a 0,2 si arrivò a 0,15 quindi se magari ci soddisfa questa curiosità siamo contenti e l'ultima domanda la terza volevo un'informazione su una delle cifre che è più consistente ma che potrebbe essere definita varie ed eventuali ulteriori coperture 7 miliardi e 250 milioni allora si tratta di maggiore entrate si tratta di minori spese e di cosa si tratta? parliamo di 7 miliardi non è che parliamo posso dire delle varie eventuali 50 milioni parliamo di una cifra molto consistente quindi siccome lei gentilmente anche per dovere istituzionale ovviamente ci ha portato delle informazioni molto utili qui c'è un'informazione che non c'è perché quando su una dicitura generica ulteriori coperture si mette un importo così rilevante non si dà un'informazione corretta io ritengo a queste commissioni quindi le chiederei di darci per lo meno diciamo per macro voci in che cosa consistono queste ulteriori coperture per 7 miliardi e 250 milioni di euro grazie donorevole Marcon che sua parola donorevole Cariello prego sì grazie presidente buonasera ministro allora io cercherò di fare un ragionamento chiaro è chiaro questa nota del ministro va analizzata a fondo e credo che domani la commissione bilancio avrà il tempo minimo per poterla anche approfondire e discutere perché diciamolo chiaramente quello che ha prodotto concretamente la richiesta che si appellava al comma 3 dell'articolo 18 della legge di bilancio non ha fatto altro che congelare la discussione sulla nota di aggiornamento al DEF questo diciamo mi rammarica perché siamo stati anche tra i promotori di quella richiesta alla presidenza della commissione ma mi rendo conto che effettivamente tutto questo non ha prodotto altro che un congelamento in attesa di questa audizione e che oggi ci permette di avere solo mezza giornata a disposizione per poter poi effettivamente fare una discussione nel merito della nota di aggiornamento al DEF fatta questa premessa vorrei entrare comunque nel merito di un passaggio che il ministro ha toccato e in quelle che sono le differenze tra la vostra valutazione e quella dell'ufficio parlamentare di bilancio lei dice testualmente che la differenza di valutazione verte principalmente sui tempi del dispiegarsi degli effetti della manovra allora questa è una io non ho altre parole che definirla un'altra balla perché con l'UPB noi ci abbiamo parlato con l'UPB era chiaro l'impostazione delle valutazioni dell'UPB sono chiaramente basate sul fatto che non è chiaro dalla nota di aggiornamento al DEF se voi farete un indebitamento netto del 2% per il quale secondo l'UPB si svilupperà un tasso di crescita dello 0,8 per il 2017 o se utilizzerete tutto quello che state cercando di utilizzare chiedendolo alla commissione europea cioè il 2,4 e quindi in tal caso si sarebbe sviluppato un tasso di crescita dell'1% questa era la posizione dell'UPB quindi dire che la differenza tra voi e l'UPB verte soltanto sui tempi e che invece entrambi valutate l'impatto della manovra su un 0 più un 0,4 di punti di PIL è un'altra balla e allora se abbiamo aspettato una settimana per sentirci dire un'altra di quelle valutazioni di bassissimo livello allora quello che il Parlamento vuole sapere domani in aula al Parlamento sarà chiesto di autorizzare un indebitamento per il 2% così come è scritto o si utilizzerà totalmente quel 2,4 preventivato ma vi dirò di più noi come gruppo abbiamo sempre detto che questi limiti per noi sono insignificanti perché se abbiamo necessità di riattivare lo sviluppo in questo Paese ma noi abbiamo sempre un 3% come limite e allora perché porsi questo limite cioè abbiamo creato una legge di contabilità che è un cane che si morde la coda lo so che voi avete un'idea diversa ma sta di fatto che questo è il punto allora io mi rivolgo più che al Ministro all'intera maggioranza perché poi dire e fare un'analisi così puntuale in termini statistici in termini matematici direi perché questa non è economia è econometria poi nasconde le verità io ve ne dico solo una di come la nota di aggiornamento al DEF rappresenta una situazione in tema di debiti della pubblica amministrazione si parla di un cioè se ne parla come se fosse un risultato positivo raggiunto dal governo cioè quello della riduzione del 20% dei tempi medi di pagamento così come diciamo derivanti dalla piattaforma elettronica che c'è sul MEF allora questo è un modo per rappresentare i dati per dimostrare una positività ma che in realtà è ancora una negatività sui debiti della pubblica amministrazione questo governo ha ancora dei tempi che si aggirano intorno ai 115 giorni la media europea è di 58 giorni l'ammontare totale dei debiti della pubblica amministrazione che ricordo il buon presidente del consiglio andò in trasmissione in prima serata e promise che entro il giorno di San Matteo sarebbero stati pagati tutti i debiti della PA ma sapete l'ammontare di questi debiti lo stock dei debiti della pubblica amministrazione è di 65 miliardi solo affrontare questo problema genererebbe realmente un tasso di sviluppo e un tasso di ripresa economica concreto nel nostro paese perché questi sono i dati e le parole che avete usato nella nota di aggiornamento al DEF quindi su questo dobbiamo discutere ma il tempo non c'è stato domani noi avremo soltanto mezza giornata in commissione per poter discutere una nota di aggiornamento al DEF avevo chiesto una cosa semplicissima il tempo necessario che abbiamo chiesto al ministro per poter rispondere nel merito di quelli che sono i dettagli della manovra lo avremmo dovuto recuperare nella commissione con una discussione seria e approfondita sulla nota di aggiornamento al DEF invece no si comprime sempre di più la discussione del Parlamento questo è il tema politico e un'ultima cosa e chiudo il pareggio di bilancio le ricordo ministro che un anno fa le abbiamo detto in audizione che voi il pareggio di bilancio non lo raggiungerete mai e lei puntualmente smentì quest'anno si riapre la stessa questione il pareggio di bilancio strutturale ritorna con un percorso di avvicinamento a quello che voi chiamate obiettivo di medio termine ma che è diverso e che sicuramente non si tradurrà in un raggiungimento di quell'obiettivo nemmeno nel 2019 non lo raggiungerà questa legislatura ma non lo raggiungerà nemmeno la prossima legislatura questa è la situazione reale dei conti italiani grazie onorevole Cariello ho chiesto la parola il relatore della Camera onorevole Fanucci prego io desidero innanzitutto ringraziare il governo per il dettaglio con cui in particolar modo nella tabella 3 ma in generale nella relazione illustra quanto aveva promesso di illustrare perché noi ci siamo lasciati nel confronto con il ministro per dar seguito a un impegno a colmare un gap informativo una simmetria informativa che poteva aver determinato il giudizio da parte dell'UPB e per quanto mi riguarda mi ritengo soddisfatto in merito a quel dettaglio che c'è questa sera fornito anzi a una settimana dalla legge di stabilità mi sarei aspettato da parte delle minoranze un'attenzione maniacale a questi dati che nei vari interventi non ho trovato salvo la recezione perché in effetti in questi dati troviamo una anticipazione della legge di bilancio molto forte e su questo su questo chiaramente ho una personale delusione rispetto al fatto che l'UPB non abbia considerato soddisfacenti queste spiegazioni ma fa parte del gioco e è la rappresentanza plastica dell'indipendenza dell'organo nel momento in cui noi abbiamo stabilito le regole e poi abbiamo nominato l'organo questo fa parte del gioco che poi alla fine non ci possa essere un'unanimità di divisione un consenso che si palesa attraverso la formula che questa sera ci è stata espressa non finisce il mondo certo tuttavia fanno rispetto a questo giudizio fanno specie fanno venire i brividi alcune affermazioni che ho sentito questa sera soprattutto da parte del Movimento 5 Stelle e chiedo davvero al governo che replichi con forza e determinazione Lezzi interviene parlando di conti truccati conti truccati Cariello parlando di balle utilizzando anche un'espressione non consona ai lavori della nostra commissione qui stiamo parlando di numeri e dati espressi con dovizia di particolari ne va della autorevolezza Presidente per favore altrimenti io non ho interrotto e chiedo di non essere interrotto ne va della autorevolezza e della responsabilità autorevolezza e della credibilità non soltanto degli organi che noi ascoltiamo con cui interveniamo dello stesso Parlamento della commissione bilancio quindi su questo il governo attraverso il Ministro chiedo che si esprima con grande nettezza già in occasione dell'altra commissione in alcuni interventi della minoranza trovammo degli spunti irrispettosi e questa sera puntualmente sono tornati alla carica e questo penso che debba essere chiarito con forza le elementi che mi hanno più convinto della relazione del governo sono sono forti e decisi nella direzione di ristabilire il termine di coerenza coerenza con quanto fatto dal governo finora coerenza con quanto fatto in Europa penso ai risultati del piano Juncker e di andare in quella direzione ricercando non soltanto l'investimento pubblico ma anche un effetto leva con l'investimento privato allora anche il moltiplicatore espresso sia dal pacchetto competitività sia dal pacchetto sviluppo sono elementi importanti che chiedevamo nel corso delle precedenti audizioni e oggi ci vengono fornite con una tobella estremamente chiara infine un appunto sul tema dell'FMI anche per rispondere non per rispondere prendere spunto nel dibattito della commissione dall'intervento di Marcon è chiaro che il Fondo Monetario Internazionale non poteva conoscere nel momento in cui ha palesato quella previsione quello che noi questa sera conosciamo e che certamente il governo ci rappresenta nella relazione perché le ipotesi che incidono sul programmatico sono le ipotesi che solo il governo a quei tempi nel momento in cui l'FMI ha enunciato quelle ipotesi poteva conoscere e oggi rappresenta e quel moltiplicatore così dettagliato oggi è maggiormente credibile e nella credibilità c'è anche il tema della responsabilità perché il governo enunciando questi dati rappresenta una forte responsabilità rispetto a quello che accadrà quindi in questo senso penso che sia anche una linea d'azione chiara che dovrà essere il binario rispetto al quale agire anche in futuro io ringrazio innanzitutto il ministro per le questioni che ci ha posto le risposte che ha dato agli interrogativi che erano emersi nel dibattito della commissione bilancio credo innanzitutto che vada rilevato un aspetto è ovvio che nel momento in cui per la prima volta non c'è stata una validazione del quadro programmatico da parte dell'ufficio parlamentare di bilancio questo aspetto istituzionale ha avuto un forte rilievo nel nostro dibattito però io credo che era scritto nel testo della legge insomma che non è che si dava vita a un organismo che era al di sopra dei livelli istituzionali e che questi avrebbero dovuto sempre conformarsi alle valutazioni dell'organismo si parla appunto di conformarsi o confermare le proprie valutazioni quindi il governo tiene conto ovviamente dei rilievi ma può confermare quelle che sono le proprie previsioni con maggiori elementi di dettaglio che sono stati forniti per quanto riguarda come quelle previsioni sono state costruite io credo che in sostanza c'è un rapporto dialettico con l'ufficio parlamentare di bilancio che ha dimostrato fino in fondo la sua indipendenza questo credo che sia un fatto da sottolineare che vuol dire che era indipendente anche quando validava lo dico anche per questo motivo in sostanza quindi l'autorevolezza sotto questo aspetto certamente è un'autorevolezza che viene rimarcata ancora di più nello stesso tempo credo che appunto il governo abbia dato le risposte e le motivazioni rispetto al quadro programmatico che ha proposto poi ci sono ancora alcuni giorni lo diceva il senatore Santini insomma ci sarà un'altra fase anche un altro strumento sul quale dovrà esserci ancora un giudizio da parte dell'ufficio parlamentare di bilancio e sarà quello strumento il documento programmatico di bilancio che andrà all'esame degli organi europei con la valutazione dell'ufficio parlamentare di bilancio quindi ci sono ancora giorni certamente anche per lavorare in quella direzione però io credo innanzitutto che si rilevava dall'onorevole Cariello che purtroppo abbiamo fatto una discussione solo su questo aspetto noi l'abbiamo rimarcato fin dall'inizio che era opportuno già cominciare a discutere del merito delle proposte ad esempio sul fatto se riteniamo o non riteniamo che sia importante porsi un obiettivo che vada ben al di là di quello del tendenziale per quanto riguardi il livello di crescita del 2017 io credo che sia importante confermare e sottolineare l'esigenza che si lavori a tutti i livelli per raggiungere quell'obiettivo serve all'Italia serve a questo paese credo che serva anche all'Europa e quindi che l'Unione Europea debba valutare fino in fondo tutte le azioni che vengono messe in campo anche il fatto di scostarsi dagli obiettivi di deficit un rapporto deficit previsto in precedenza per cercare di raggiungere quell'obiettivo e da questo punto di vista sarebbe importante anche capire se le forze politiche che sono presenti in Parlamento sostengono o meno questa esigenza anche di come dire aiutare il governo da questo punto di vista nel lavoro che sta facendo in Europa non solo per ottenere il massimo di flessibilità ma soprattutto per lavorare per fare in modo che ci sia la crescita che riteniamo indispensabile per questo Paese per il contributo che questo Paese può dare anche alla crescita europea e quindi alla discussione sulle politiche economiche europee io da questo punto di vista credo che l'Italia abbia svolto un ruolo fondamentale nel cercare di ridefinire le politiche economiche europee che questo sforzo e questo lavoro dovrebbe essere sostenuto soprattutto da chi poi dice che si può anche andare oltre il 3 o comunque stare oltre ai livelli che ci siamo posti come obiettivi di riduzione del deficit che sono obiettivi che nascono dalle norme del fiscal compact e dalle regole europee quindi non è che sono una cosa astratta mi meraviglio ad esempio si parla qual è l'idea del paese quali obiettivi di politico economico ho sentito parlare per tanti anni in modo particolare dalla Lega ma non solo della questione della previdenza come una questione fondamentale su cui anche fare referendum adesso abbiamo un'occasione io credo importante è quasi scomparso questo elemento dalla nostra discussione ma io credo che sia una delle sede fondamentali che ci saranno nella legge di bilancio l'intervento che si fa sulle questioni della previdenza sia a favore di chi è già pensionato ed è con i livelli più bassi di pensione sia per quanto riguarda strumenti di flessibilità sia per risolvere questioni che sono lì da 5-6 anni come quelle della ricongiunzione onerosa che sono state fatte da governi precedenti a cui la stessa Lega aveva partecipato quindi c'è un insieme di misure su questi aspetti che credo richiederanno non l'abbiamo fatto fin qui ma una forte attenzione del Parlamento e in particolare delle commissioni bilancio nel momento in cui si affronterà la legge di bilancio perché questa è credo una questione fondamentale a seguito del dibattito anche che abbiamo avuto in tutti questi anni c'è uno sforzo rilevante sugli investimenti mi sembra anche strano che dopo anni in cui ho sentito dire che gli interventi sugli investimenti hanno moltiplicatori certamente più elevati di altri interventi adesso si metta quasi in discussione questo assunto è stato detto tante volte anche come elemento di critica al puntare troppo sulla riduzione dell'imposto credo che ci sia un'azione che tende ad utilizzare e a intervenire al massimo livello possibile sul versante degli investimenti sia pubblici che privati e ovviamente quelli privati si stimolano con strumenti come quelli del superammortamento o la legge Sabatini e quant'altro che sono previsti negli interventi del governo quindi io credo che noi abbiamo le condizioni sostanza dopo le precisazioni che sono venute da parte del governo per continuare domani la discussione sia nelle sedi delle commissioni che successivamente in aula per arrivare a fare il mestiere che deve fare il Parlamento e cioè sulla base delle proposte del governo approvare le risoluzioni sia di autorizzazione da una parte per quello che è richiesto come autorizzazione in base alla legge 243 sia per quanto riguarda gli indirizzi che il Parlamento può dare al governo in riferimento alle prossime scadente sia del documento programmatico di bilancio che per quanto riguarda la legge di bilancio stesso grazie onorevole Marchi se non ci sono altri interventi stavamo verificando se ci fossero meno altri interventi prima di passare la parola al ministro volevo aggiungere una brevissima riflessione recuperando la richiesta dell'onorevole Marchi sul perimetro che noi siamo chiamati a stabilire con le risoluzioni che il Parlamento dovrà approvare nelle prossime ore io penso che abbiamo avuto tutti gli elementi lo dico l'onorevole Cariello per il dibattito che faremo domani in commissione nei giorni scorsi per farlo il confronto in commissione sui fondamentali perché i temi su cui maggioranza e opposizione diciamo hanno idee assolutamente alternative ci sono tutti e ci sono tutti sia nel DEF che nella nota aggiornamento a DEF il tema di fondo che ci ha portato a spostare di qualche giorno tra l'altro c'era la disponibilità ovviamente del ministro venire qui senza articolo 18 anche prima ma era fisicamente all'estero penso sia il primo impegno che ha assunto il ministro dopo questo suo viaggio all'estero è stato quello di venire qui alla Camera per rispondere alle nostre richieste io penso che sia fondamentale una cosa perché le nostre scelte inevitabilmente diventeranno prassi e il fiscal council mi sono chiesto in questi giorni probabilmente se avessimo chiamato fiscal council alcune valutazioni anche bizzarre non le avremmo sentite ho già sentito la valutazione che era stato un fantomatico ufficio della Camera era dare un giudizio non esiste un giudizio della Camera è un'autorità l'ufficio parlamentare di bilancio ed è un'autorità diciamo terza voluta da tutti noi maggioranza e opposizione e ci sono penso dieci anni di lavoro alle spalle nostre che si sono trasformati in una garanzia che sta diciamo fuori dalla contesa politica il tema è solo uno e pongo il quesito al Ministro è evidente che diciamo non è stata messa in discussione la crescita all'1% ma i fondamentali che portavano a quella valutazione finale e su alcuni il Ministro oggi ha dato delle risposte molto puntuali su alcuni diciamo restano alcune richieste fatte dai gruppi su cui rispondere al Ministro il tema di fondo è il passaggio perché siamo anche alla prima esperienza da parte nostra perché c'è la nuova legge di bilancio che è in vigore e il 15 ottobre il governo dovrà licenziare per la prima volta il documento programmatico di bilancio a Bruxelles e dentro il 20 ottobre questo l'abbiamo fatto tutti noi insieme abbiamo votato nuova legge di bilancio sarà trasmessa alle camere la nuova legge di bilancio abbiamo detto il 20 ottobre per evitare diciamo l'ipocrisia del passato cioè che si licenziavano le manovre il 15 ottobre poi arrivavano alle camere il 25 ottobre il 26 ottobre abbiamo concordato in sede di approvazione della nuova legge di bilancio quali erano i giorni di cui aveva necessità il governo per licenziare la legge di bilancio e quindi dal 21 ottobre noi lavoreremo congiuntamente prima la camera e poi il serato sulla nuova legge di bilancio il tema signor Ministro è solo uno se il DEF è il perimetro ed è il perimetro dentro cui poi si muove la manovra ed il perimetro su cui noi stiamo chiedendo l'autorizzazione a Bruxelles si allarga potenzialmente dal 2 al 2,4 perché è l'autorizzazione che ci apprestiamo a chiedere poi ci saranno alcuni gruppi che voteranno contro altri a favore ma è il confronto parlamentare che ci apprestiamo a fare e se nel documento programmatico di bilancio è possibile che si arrivi a stabilire che un per cento di crescita lo si fa con un rapporto deficit-pil diverso da quello di cui si è discusso in queste ore e che ha portato l'ufficio parlamentare di bilancio a non validare io penso che sia opportuno consentire al Parlamento di approvare risoluzioni che prevedano più opzioni avendo la certezza che il Parlamento comunque dovrà esprimersi a maggioranza assoluta dalla Camera e dal Senato con un limite massimo del 2,4 lo dico semplicemente perché diciamo sarebbe poco opportuno per il Parlamento definire un perimetro diciamo con un rapporto deficit-pil al 2 e il pil all'1 e avere un documento programmatico di bilancio tre giorni dopo che va a Bruxelles con il rapporto deficit-pil al 2,2 2,1 2,3 e il pil sempre all'1 perché davvero il tema non sarebbe a quel punto la credibilità dell'ufficio parlamentare di bilancio ma la credibilità nostra di deputati della Repubblica e dei gruppi parlamentari che consentono al Parlamento diciamo con le sue azioni di essere credibili perché l'ufficio parlamentare di bilancio semplicemente ha fatto il proprio lavoro e fa bene se lo ritiene il Ministro a confermare le proprie ipotesi però il Parlamento domani sarà chiamato a votare il perimetro dentro cui poi si muoverà la manovra su cui inevitabilmente ci saranno vedute differenti di sicuro non escludo diciamo che le distanze aumenteranno tra maggioranza e opposizione ma il tema è essere d'accordo sui fondamentali che consentono al Parlamento di essere diciamo certo che le regole che stabiliamo siano regole rispettate da tutti oggi perché in maggioranza e perché in posizione opposizione domani eventualmente a parti invertite sentivo la necessità di ribadirlo perché è per tutti una prima volta il percorso che abbiamo di fronte lo abbiamo costruito per garantire trasparenza rigore e serietà alle informazioni che poi consentono al Governo al Parlamento di esprimersi prego noi stiamo discutendo di tanto per essere sintetici di un per cento di crescita e due per cento di deficit e con il due per cento e un per cento di crescita il punto non validato dall'UPB è così? è corretto sì sì non è validato dall'UPB ed è una è così benissimo sì 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 è solo la crescita cosa succede se domani noi approviamo una mozione con questo perimetro e poi sabato no nulla diciamo dal punto di vista della sostanza non cambia nulla no no mi scusi e sabato il Governo approva con due quattro o due tre sempre con un tasso di crescita dell'un per cento che succede? non lo so è una domanda in generale dal punto di vista della procedura nulla significa che viene fatta un'altra scelta in Consiglio dei Ministri diciamo è legittimo ma è una cosa che a Bruxelles possono capire ognuno di noi risponde si sta discutendo da dieci giorni un per cento e due per cento un per cento di crescita con due per cento di deficit non validato il tutto questo perimetro dall'ufficio parlamentare di Milano è così? benissimo dopodiché il Governo approva con procedura rafforzata è così? corretto l'autorizzazione al 2,4 ad arrivare fino al 2,4 come abbiamo fatto l'anno scorso di 2,4 benissimo se non era validato il 2 no 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 la validazione non è sul 2 è sul 1 per cento di crescita con quei fondamentali è ovvio le cose si tengono evidentemente ma possiamo solo pensare il tipo di confusione che possono avere a Bruxelles rispetto a un insieme di percorsi di questo genere è una domanda che mi faccio del tutto ingenua ecco glielo rivolgo a lei suo Presidente visto che il Ministro sta pensando ad altro ma non importa no no per cari però ascoltiamo la replica del Ministro poi sulle procedure ci parleremo domani nelle commissioni bilancio di Camera e Senato però insomma con il Presidente Tonini ci sono confrontati più volte il quadro solo un'ultima cosa siccome questa è una prima applicazione lei l'ha sottolineato più volte non vedo una grande razionalità in questa prima applicazione capisco i tempi capisco le difficoltà capisco tutto però dovremmo avere un di più di razionalità pensando anche al futuro visto che ripeto mi è di difficile comprensione quanto stiamo facendo e se mi è di difficile comprensione che ho vissuto queste vicende come voi mi immagino cosa possono pensare a Bruxelles non so cosa pensi Moscovici tra l'altro da quello che ha detto e contraddetto in pochi giorni o che gli hanno fatto dire penso che abbia un po' di confusione già mentale nella sua testa non certamente gli verrà chiarita grazie onorevole Brunetta parola per la replica al Ministro Pado grazie Presidente grazie agli onorevoli per gli interventi sono stato chiamato da queste commissioni a dare ulteriori elementi di chiarimento che sono di sostegno alla ipotesi di crescita alla previsione di crescita di 1% del 2017 e ho cominciato a dare alcuni elementi specifici del perché noi riteniamo che questa ipotesi vada mantenuta e l'abbiamo giustificata con un'analisi puntuale per ambiti di intervento che è l'altra informazione che viene richiesta al governo di fornire per ambiti di intervento e con effetti legati chiaramente come alcuni onorevoli membri delle commissioni hanno ricordato ai moltiplicatori questo metodo non è altro che un metodo standard che viene usato ogni volta che si usa un modello per validare qualche cosa quindi il metodo è più o meno lo stesso usato dall'UPB dal fondo monetario dall'Ocse dal governo dai previsori che fanno parte del panel dell'UPB questo è un tipo di informazione che abbiamo cominciato a dare sono moltiplicatori impliciti sugli impatti adesso arriverò ai punti specifici che sono stati chiesti vorrei però ricordare che alcuni onorevoli hanno osservato informazioni sugli ambiti di manovra del bilancio impliciti in questo documento e hanno chiesto e capisco benissimo il loro interesse ulteriori informazioni sulle misure vorrei ricordare che queste misure in alcuni casi non sono ancora definite saranno approvate dal governo il prossimo consiglio dei ministri di sabato e in questo momento quindi io non sono in grado di definire con la precisione richiesta tutte le misure che sono state rilevate visto che come ricordava il presidente Boccia questo è un primo passaggio di queste nuove procedure lo è ovviamente anche per me ho ritenuto che le informazioni contenute nel documento che vi è stato distribuito fossero già molto rilevanti e utili ai fini dello scopo che io avevo capito essere questo di questa riunione e cioè non quello di valutare la proposta della legge di bilancio o la proposta della manovra del governo che verrà effettuata più avanti ma quella di validare o non validare le misure le cifre di previsione della crescita e a mio avviso le informazioni che sono state fornite sono già sufficienti detto questo se alcuni onorevoli ritengono a dover richiedere ulteriori dettagli sugli specifici moltiplicatori applicati alle diverse voci saremo ben lieti di fornirle quindi mi concentro su alcune domande specifiche però prima di arrivare alla domanda specifica vorrei ricordare a partire dalla domanda posta dal presidente Boccia quali sono i prossimi passi il governo ha richiesto nella nota del giornamento al DEF l'autorizzazione a andare fino a un massimo di 2,4 di indebitamento a partire dal 2,0 ha lo scopo di utilizzare risorse per far fronte a eventi eccezionali che sono essenzialmente di due grandi categorie le pressioni dei flussi migratori e le conseguenze degli eventi sismici che vanno al di là della immediata ricostruzione questi tra l'altro e cito qui la domanda posta dall'onorevole palese la questione dei flussi migratori è quanto mai all'ordine del giorno in Europa sono tornato questo pomeriggio dall'Ecofin a Lussemburgo e si è svolta una ampia discussione in cui tutti i ministri almeno sicuramente i ministri dei principali paesi hanno posto l'evidenza della necessità di una strategia europea complessiva che ancora non c'è e io a nome del governo ho lamentato fortemente questa carenza allo stesso tempo ho detto il governo italiano si lamenta che non c'è un sostegno europeo vero ma non si astiene dall'usare le proprie risorse per innanzitutto salvare le vite in mare e poi mettere queste persone in condizioni intanto di accoglienza ma nel lungo periodo di restare possibilmente in modo sicuro e decente nei loro paesi quindi non si parla più di flessibilità perché la flessibilità onorevole palese è finita quella che lei ricordava in relazione agli sforzi di riforme strutturali e di investimenti che ci sono perché gli investimenti pubblici sono significativamente aumentati in questi ultimi anni lo ricordavo nella mia audizione di una settimana fa ma si tratta non la chiamiamo flessibilità per precisione si tratta di circostanze eccezionali che richiedono interventi eccezionali per far fronte a questi interventi anche per far fronte a un vuoto di intervento europeo il governo chiede fino a un massimo di 2.4 l'UPB come ha dichiarato nella lettera inviata ai presidenti di commissione dopo aver fatto l'esercizio di validazione o non validazione della nota di aggiornamento al DEF sarà chiamato a validare il quadro di bilancio ed è questa informazione che sarà trasmessa a Bruxelles e valutata a Bruxelles per considerare l'ammissibilità della manovra del governo ai fini delle regole europee quindi in questo senso che spero di aver risposto almeno in parte alla questione posta dal presidente e aver chiarito un po' le questioni dei rapporti tra questo giudizio dell'UPB che ovviamente teniamo in massimo rispetto e l'Europa non è questo quello che l'Europa almeno formalmente richiede di considerare ci sono poi state al di là delle alcune parole che respingo in modo fermo e che ritengo inadeguate al dibattito cioè propaganda truccare i conti balle e quant'altro ci sono state molte domande che riguardano punti specifici alcune hanno a che fare con un tema generale sia pure applicato ad esempio l'impatto dell'IVA l'impatto della competitività l'impatto degli investimenti come mai in alcuni casi il moltiplicatore implicito è così elevato perché qui bisogna tener conto di quel fenomeno importante che io ho rilevato che è il tempo nel quale un determinato shock di politica economica si ripercuote sul modello questa è una prassi normale che è ben nota a tutti quelli che fanno questi esercizi di validazione nel caso delle stime del governo differentemente dalle stime proposte da UPB e dai previsori c'è un effetto di impatto come si dice front loaded cioè fatto concentrato subito in modo tale che l'impatto sia il più immediato possibile proprio per avere un'accelerazione degli effetti positivi sulla crescita anche se in alcuni casi il finanziamento o meglio il peso l'impatto sul bilancio di queste misure viene leggermente procrastinato nel tempo questo aritmeticamente dà luogo a un moltiplicatore di impatto molto elevato nel primo anno e molto più basso negli anni successivi e se si guarda al profilo dell'impatto è esattamente quello che succede nel profilo della stima presentata della simulazione presentata dal MEF e non c'è invece nella simulazione presentata dall'UPB anche se vorrei ricordarlo alla fine del triennio UPB e MEF hanno esattamente la stessa stima di crescita accumulata questo è un argomento generale è stato ripeto rilevato rispetto all'impatto dell'IVA all'impatto degli investimenti all'impatto delle misure per la competitività ci sono poi state alcune domande relative a un maggior dettaglio sulle misure che io abbiamo raggruppato per pacchetti come dicevo prima in alcuni casi non mi è possibile materialmente rispondere perché il governo deve ancora definire l'entità e la natura di queste misure che saranno definite da qui a pochissimi giorni ci sono state poi richieste di chiarimento su cosa debbano essere cosa si debba intendere dietro titoli diciamo di pacchetti aggregati come ulteriori coperture o entrate aggiuntive ulteriori coperture sono un mix di entrate spese posso dire che hanno a che fare in alcuni casi con l'utilizzo di fondi di dotazione e altre misure del genere ma ripeto non sono in grado stasera lo sarò tra qualche giorno di essere più preciso così come le entrate aggiuntive hanno a che fare con valutazione di recupero dell'evasione per esempio o modificazione di alcune misure di entrate sto guardando signor Presidente se ci sono altri punti specifici che mi sono stati sollevati sì l'onorevole Lezzi senatore senatrice Lezzi chiedo scusa chiede l'impatto del deflatore dei consumi nel 17 e l'impatto diverso nel 18 19 lei giustamente attira l'attenzione sulla questione delle clausole di salvaguardia che sono temporaneamente introdotte nei bilanci 18 e 19 e che saranno come nei bilanci passati e come in questa sessione di bilancio sostituite da altre misure è già difficile a questo stadio definire le misure per la legge di stabilità 17 è più difficile ancora farlo per gli anni successivi e questo va ricondotto nel perimetro generale quindi in definitiva ripeto chiedo scusa sto riguardando i miei i miei appunti spero di non aver lasciato fuori nessuna questione specifica tralascio le valutazioni sul modello generale di di crescita del il governo ci porterebbe lontano è già parecchio tempo non voglio sicuramente prendere ulteriormente il vostro tempo ribadisco prego sono le le cosiddette ulteriori coperture le entrate aggiuntive che a questo stadio non sono ancora distinte in modo specifico ovviamente lo saranno con il documento di bilancio chiedo chiedo scusa mi fermo qui ma ovviamente se mi sono dimenticato di qualcosa sono a disposizione non è che non si sanno dove arrivano stiamo ancora specificando le varie voci allora questa non è una discussione del documento di bilancio è una discussione per sostenere l'argomento relativo alle previsioni di crescita come ovviamente sarà così che sabato avremo tutte le informazioni grazie 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 ministro paduan la seduta termina qui l'audizione è finita noi abbiamo si ricordo ai componenti dell'ufficio di presidenza che abbiamo ufficio di presidenza qui e abbiamo commissione bilancio alle 13.30 domani alla camera no ma dai un panino mangialo